Siamo molto soddisfatti di essere al ballottaggio, adesso iniziano due settimane cruciali per Roma, per il suo futuro e noi ci rivolgeremo a tutte le romane, a tutti i romani, a chi non è andato a votare, a chi ha votato per altri candidati e di loro chi partecipare, di votare innanzitutto e poi di sostenere la nostra proposta che punta a far rinascere Roma a far rinascere una città che funziona, pulita e curata, anche una città che sappia crescere, creare lavoro che sappia essere protagonista della sfida ecologica ed energetica, che sia una città capace di includere e di ridurre le distanze e le diseguaglianze. Siamo fiduciosi, siamo ottimisti, sono molto contenti anche per il successo a Prima Valle che lascia ben sperare perché era un seggio che era considerato il terzo per noi che invece abbiamo vinto. Si sapeva che a Roma c'erano quattro candidatori forti, proprio per questo siamo molto soddisfatti di essere andati al ballottaggio, è stato un risultato importantissimo e appunto con grande rispetto nei confronti degli elettori e anche due candidati che gli elettori hanno scelto, noi adesso ci presenteremo dicendo adesso è il momento, ora si apre una nuova fase, ora bisogna scegliere, scegliere chi è più adatto a fare il sindaco di Roma e noi ci presenteremo con la nostra serietà, con la nostra concretezza e con la nostra capacità di ascolto anche con la nostra unità.